I due brani senza la presentazione in mezzo. Eh, c'è un signore sulla capace. Facciamo uno di seguito all'altro perché è lo stesso genere musicale, Funky. Funky è una cosa un po' particolare, è venuto in un ibrido tra il pop, il blues, il jazz, si è mescolato tutto. Questi due brani sono tutti di Harvey Ancock, un grande jazzista che ha avuto l'illuminazione si è messo con pochi brani di Funky, è stato anche criticato dai puristi, ma non si divertivo un sacco. In effetti è musica molto divertente, il Funky. I due brani sono Chameleon, che sarebbe chiamato Leonte, e Watermelon Man. Il primo noi lo chiamiamo Chameleon, nel senso che è più facile. Circhi di una volta, dove il domatore diceva, e cosa fanno noi? Chameleon, nella gamba. Ed allora è rimasto sempre Chameleon. Un altro invece è Watermelon Man, il secondo, uomo melone, ha un'affinità particolare con me. Quest'estate ho mangiato una curia, perché mi ha detto, guarda che dovevi mangiare poche fette, perché è pesante. Allora mi sono preso conto che bisogna fare la fette, perché... Sto ancora disegnendola ancora adesso insomma. Bene, due brani, uno di fila a lato, dirige il maestro Magistri. Si divertiranno, sentirete la fila di dietro, ci scateneranno. Buon divertimento. Buon divertimento. Buon divertimento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.